Buonasera Paolo, diamo anche la mano al nostro nuovo ospite, ma mi sembra più un tifoso giuventino questo, però calcia una palla nera azzurra, desse un calcio anche al nostro trabiccolo qua meccanico, guarda, è caduto il tuo nome perché di stadio antipatico, allora chi ce l'ha portato questo grande omaggio artistico Paolo? Il maestro Romano Dorsi di Ventimiglia, grande tifoso della Roverino, bocciofila, stai dicendo dell'Inter, stavo per dire dell'Inter, invece è bello L'ha fatto, ti piace o no? Tu avevi chiesto e lui subito E quindi lo ringraziamo perché tra l'altro c'è una grande polemica sulla mascotte dei prossimi mondiali in Brasile molto brutta, molto veramente livello basso Potrebbe studiare qualcosa lui Esatto, questo qua è un'opera che potrebbe essere assolutamente una mascotte Glielo diremo, assomiglia anche un po' vagamente al Ciao d'Italia 90, non so se sei d'accordo Guarda, guarda, solo i colori non mi piacciono troppo Bianco e nero, a proposito di bianco e nero, c'è da fare i complimenti a Lisa e a Luca di Lisi E' nato un nuovo juventino che si chiama Leonardo Ah, lo marchiamo subito così? Leonardo, sì sì, il papà mi ha detto che è un nuovo juventino quindi io faccio i complimenti sia a Luca che a Lisa Speriamo che si redima sulla strada della vita In questo nuovo juventino, suo figlio Leonardo, sono contento anch'io che siano tutti bene Auguri a papà e mamma e ai nonni, ai nonni, non dimentichiamoci i nonni Auguri allora, auguri, ma andiamo subito ad aprire la trasmissione in maniera veloce e puntuale perché come al solito dobbiamo andare a vedere cosa è successo nella scorsa puntata i pronostici che abbiamo fatto per il weekend sportivo vediamo questa volta chi l'ha spuntata Milan-Juventus Eh, lì vince Rizzoli Come vince Rizzoli? Vince Rizzoli L'arbitro adatto a quella partita lì, ti dico già E quindi c'è, vuoi insinuare che il signor arbitro possa Il mischiato a Catania, il mischiato nella finale Il mischiato E insomma, Rizzoli, guarda, io guardo sempre gli arbitri prima delle partite, quindi Secondo arriverà Alonso Eh E quarto Vette Vette Che vincerà quindi il mondiale Perfetto Grazie Achille, grazie, ti vedo, ti vedo, sei nell'azzurro del cielo Ciao Achille, ciao Io ho già sfoderato il pennarello magico Che non sarà famoso come il pennello di Achille Ma comunque fa sempre la sua figura La tua Inter che sarà in trasferta a Parma, al Tardini Come andrà a finire? Non mi dire 3-1, te lo dico già No, no, non te lo dico più 3-1 Ti dico 0-2 0-3 per la Lule Prendi le tue responsabilità, per me non sono problemi Rugby, ultimo dei test match della serie autunnale fra Italia e Australia Alia Staglia vincerà, si imporrà per 22-20 Porti V, la trasmissione più al centro, più al vertice del calcio scommesse Ha dato i suoi verdetti anche questa settimana Paolo, te li andrai a giocare come al solito? Andate a lavorare a questi ragazzi È una cosa normale secondo voi questo Secondo me è una cosa vergognosa Hai vinto di nuovo Tulipi Che ha fatto meraviglie quando era l'Inter, ti ricordi? Voleva appendere al muro i giocatori Me lo ricordo, me lo ricordo Comunque la Juve l'ho presa Sì La Juve l'ho presa io Perché le ho detto che era Rizzoli Era Rizzoli che Facciamo un distinguo Hai azzeccato la prestazione arbitraria Ma poi hai detto 0-3 Juve Giusto, certo Però sapevo che Rizzoli era il protagonista numero uno Che poi non è stato Rizzoli a comandare il calcio di rigore Ma l'arbitro di Porta De Marco Di Chiavari peraltro Ma l'arbitro è lui L'arbitro è lui È lui che decide Ma questo rigore c'era alla fine? No, per conto mio non c'era La Juve è stata penalizzata Mi dispiace dirlo E io vado controcorrente e ti dico che invece il rigore c'era No Va bene l'ascella Ma sotto l'ascella poi cosa c'è? Ah figo Quando picchia prima da un'altra parte del corpo non conta niente Va bene Poi se va sulla mano non c'entra niente Non è rigore Non stiamo a rimuginare Non stiamo a rimuginare La Juve deve lamentarsi giustamente perché è stata penalizzata Questo non è il processo di Biscardi Comunque andiamo avanti così Andiamo avanti così è sempre prima la Juve Complimenti alla Juve Cosa vuoi che ti dica? Io sono sportivo Poi speriamo che l'Inter si riprenda Perché è un momento proprio Va bene Paolo Non ti intristire Non parliamo di Inter Perché veramente Sennò poi facciamo una puntata che assomiglia a un funerale E andiamo invece a leggere il sommario Che è ricchissimo Come ogni settimana Perché dobbiamo parlare di Pallanuoto Coppa dei Campioni con la Rari Nantes Poi Bocce La Roverino Pallavolo Tutti i campionati Basket Idem con patate Il calcio Il football americano Il ciclismo La palla a mano E poi Meteosport E i pronostici finali Che come al solito Deliziano i nostri ascoltatori Che poi vanno pesantemente a scommettere E incassano cifre iperboliche Bene Allora partiamo subito col primo servizio Si è giocato la settima giornata Del campionato di Serie B di Bocce La Roverino ha perso Dopo un incontro combattuto Per 9 a 11 Contro i genovesi della Calvarese Vediamo il servizio Cinque punti voi E tre la Roverino Come mai questi pochi punti? Questo sicuramente È un campionato durissimo Per tutte le squadre Sono squadre Veramente forti Che puntano alla Serie A Il campionato è duro È lungo Quindi essendo ancora Metà Metà campionato Secondo me La classifica È ancora presto Per poterla vedere Bisogna aspettare ancora qualche giornata Comunque vincere qua a Roverino È un'impresa Per una squadra Che viene da fuori Perché qua è sempre stato un campo Dove non si raccoglievano punti Sì sì è uno dei campi più ostici Da Serie B assolutamente Infatti cerchiamo di portare a casa almeno un pareggio Speriamo bene Ma sappiamo tutti benissimo che non è facile vincere qua Anche noi siamo stupiti dalla partenza Che abbiamo avuto oggi La prima volta che riusciamo a partire così bene Speriamo che finisca bene diciamo Per la Calvarese di Genova L'obiettivo qual è? Salvezza Salvezza al prima possibile Nel miglior dei modi Gli anni scorsi Io sono tornato dopo quattro anni qua a giocare Gli anni scorsi Anzi sono salvati diciamo le ultime giornate E quest'anno sperano di salvarsi un po' meglio Speriamo tutti Di riuscire a salvarci Prima soffrendo un po' di meno Un suo giudizio sul campionato Chi può vincerlo? Sicuramente l'ausilio di Saluzzo È la squadra più forte Assoluta In assoluto Anche se il Gaglianico di Bottalla Di Biella È una bella squadra Però Saluzzo ha qualcosa in più Assolutamente Insomma Piemonte batte Liguria Piemonte batte Liguria Dispiace dirlo però Comunque vedremo alla fine Faremo tutti i conti Un anno no questo? Un anno no Siamo all'inizio Insomma Stiamo andando bene Anche perché abbiamo Dovuto rinunciare A tre o quattro giocatori Importanti Stiamo lottando Per cercare di riuscire Almeno quest'anno A rimanere In questa categoria Poi un altro anno Vedremo magari di rinforzarci È un momento particolarmente difficile Speriamo di superarlo Comunque siamo solo La settima giornata di andata Quindi c'è ancora tutto Il giro nel ritorno Certo che oggi Questa è una partita importantissima Anche perché Questi sono avversari Che sono un po' Dalla nostra forza Dalla nostra portata Gli anni scorsi Il vostro campo C'era proprio l'imbattibilità Perché vincevate sempre voi Cosa avete A son di venire a giocare Poi anche gli avversari Hanno cominciato a conoscere Un po' I campi I campi purtroppo Con l'andare degli anni Si sono linearizzati E quindi Adesso è più facile per tutti Prima era molto più difficile Per gli altri Riuscire a giocare Però è giusto così Insomma Chi ne ha di più Ne metta Io vado pazzo Per le bocce Paolo Va bene Stai tranquillo La prossima volta Che vado a Ventimiglia Con la Roverino Ti porto anche te Così ti faccio conoscere Tutti i giocatori Si Poi magari Si scopre un campione E arriva la salvezza Magari si Magari io Sei tu il gioglio Nella manica Del presidente Franco Paganelli Accidenti Povera Ti lascio giocare a bocce Dai Va bene Allora noi cambiamo Sport Cambiamo ambiente Perché con il secondo posto Tenuto nel girone di qualificazione Della Coppa dei Campioni La Rarinantes Mediterranea Imperia Di Pallanuoto È giunta al secondo turno Dove incontrerà Le russe del Kim Quindi noi andiamo a vedere Nel servizio La cavalcata Delle ragazze Di Mister Capanna Sarà al Kirisci La prossima avversaria Della Mediterranea Nei quarti finali Di Coppa Campioni La partita di andata Si giocherà in Russia Il 9 marzo prossimo Quella di ritorno Alla Felice Cascione Il 23 marzo La squadra russa È da dieci anni Consecutivamente Campione del proprio paese In Coppa Campioni È salita due volte Sul podio Lo scorso anno Nella Final Four Vinta dalla Prorecco Arrivò terza Il secondo posto Ottenuto dalla Mediterranea Imperia Nei preliminari di Cempio Ha restituito La platea imperiese Una Mediterranea Tonica Capace di tenere testa A squadroni Come all'Olimpia Cossa Ed il Sabatelli Le giallorosse Di Marco Capanna Hanno chiuso La quattro giorni Imperiese In battute Le prestazioni fornite Dalle palanotiste Della Mediterranea In occasione Soprattutto delle sfide Contro le spagnole Del Sabadella E contro le greche Dell'Olimpia Cossa Hanno dato la misura Dei valori attuali Di questo gruppo Atteso ora Ad altri importanti impegni Francesca Pomeri Giulia Emolo E Giulia Gorlero Sono in questi giorni A Civitavecchia Per il collegiale Con la nazionale maggiore Affidata alle cure Di Fabio Conti Il collegiale Proseguirà dal primo Al 6 dicembre Al centro federale Di Ostia Le altre componenti Delle compagine giallorossa Della Mediterranea Torneranno invece in vasca Per preparare La sfida valida Per la quarta giornata Del campionato Di Serie A1 Femminile In programma Sabato 15 Alla Felice Cascione Contro il Padua Un match decisivo Anche per le sorti Della qualificazione Alla Coppa Italia La preparazione Prosegue anche in vista Di un altro importante Appuntamento internazionale La finale Di Supercoppa Che metterà Confronto Ad Imperia Giovedì 20 dicembre La Mediterranea Imperia Vincitrice Della Coppa Leng E il Rappallo Ex Prorecco Che ha conquistato L'ultima Champion Cup E dopo aver visto I nostri amici Della pubblicità Siamo di nuovo In studio In diretta Tutti i risultati Le classifiche I prossimi turni Delle prime squadre ponentine Di Basket Club Assoedaletti E BVC Sanremo Vediamo Grande battaglia Sui parquet Di Liguria e Piemonte Per le prime squadre ponentine Nella sesta giornata Del campionato Di Serie B femminile Infatti Il Basket Club Assoedaletti Cede dopo due tempi Supplementari Alla Beina Schese Col punteggio Di 79 a 71 Le piemontesi Vanno a riposo Sul più 7 E allungano Nel terzo periodo Sino ad avere 15 punti di vantaggio Negli ultimi 10 minuti Però La formazione Orange Cambia ritmo e mentalità E si aggrappa In rimonta Fino al 59 a 59 Il primo tempo Supplementare Sembra suggellare Il magic moment Dello Assoedaletti Ma avanti di 7 punti Le ragazze Di Coach Carbonetto Subiscono l'aggancio In un minuto E sono costretti Ad un nuovo extra time Qui Gravate da 5 falli Roberta Sarti E la Daddazio La Beina Schese Può finalmente Respirare E condurre in porto Il match Domani sera Si giocherà L'ultima giornata Del girone di andata Alle ore 21 Presso la palestra Di via Isnard È previsto Lo scontro Col Savonera Ultimo Una ghiotta occasione Per ricucire Il break Di 4 punti Scavato dalla Nadirex Che guida la classifica Con 10 punti L'ottavo turno Del campionato Di serie di maschile Invece Ha visto il basket club Ospedaletti Espugnare il campo Del Valle Scrivia Molasana Gli ospedalettesi Nelle immagini Che state vedendo Non hanno deluso Le aspettative E si sono imposti Con largo margine Al termine di un match Sempre tenuto in pugno Fin dalle prime battute La squadra Ben impressionato Per compattezza E personalità Confermandosi Antagonista principale Della favoritissima Sarzana Coach Lupi Ha voluto elogiare Suoi per la tenuta mentale Grandi protagonisti Bon Giovanni E Michelis Con rispettivamente 18 e 15 punti A referto Prossimo impegno Domenica Nel palazzetto di casa Alle ore 18 Contro il Val Petronio Nel quinto appuntamento Del campionato Di promozione Infine Fruttuosa prova esterna Del BVC Sanremo Contro gli amatori Savona Superati col punteggio Di 45-34 Dopo una partenza bruciante Con un parziale Di 10-0 I matuziani Si sono fatti Irretire Dalla difesa zona E dalla grande esperienza Del team avversario Prima del repentino Cambio di marcia Dell'ultimo periodo Che ha chiuso Definitivamente Il match Coach Amato Giustifica Gli alti e bassi Del suo team Presentando le carte Identità Del suo giovanissimo Gruppo E dà appuntamento A tutti gli appassionati Per domani sera Alle ore 21 A Villa Citera Per il match Contro il Cogoleto E ringraziamo Raffaele Danubio Il nostro prezioso collaboratore Che ci offre Questi anche Montaggi artistici Montaggi acrobatici Per far vedere Le azioni Dei suoi ragazzi Senza Danubio Non so come faremo Per il basket Assolutamente sì Lo dicono anche a Vienna Grazie Gabriele Tocca a te Ok Andiamo subito Non a ripassare la geografia Ma al punto volley Perché come ogni settimana Con l'ausilio di Cesare Fagnani Andiamo a scoprire Quanto è successo Nei palazzetti Della nostra provincia E chi ha avuto La meglio Sotto rete Sono usciti i calendari definitivi Dei campionati giovanili FIPA Under 14 femminile E Under 15 maschile Per quanto riguarda L'Under 15 maschile Campionato interprovinciale Savoni Imperia Sono sette le squadre iscritte E di cui tre della nostra provincia Golfo di Diana e Alassio Cariparma Imperia NLP Sanremo Volley Inizio previsto per il 16 dicembre Nell'Under 14 femminile Campionato provinciale Nove squadre iscritte Volley Team Armataggia Golfo di Diana Ventimiglia San Camillo Riviera Volley E due squadre per Maurina E NLP Centro Volley Inizio previsto per mercoledì 5 dicembre Ma passiamo ai risultati Le immagini ci portano al campionato Under 18 femminile Palestra Ormò Vittoria Altei Break Della NLP rossa Che vedete in maglia blu Sulla Maurina Volley Gli altri risultati della sesta giornata Salis Ventimiglia Pallavolo Argentina 3 a 0 NLP rosa Golfo di Diana 3 a 0 Anfossitaggia NLP verde 3 a 0 Classifica NLP rosa 18 Anfossitaggia 15 Under 16 femminile Terza giornata Golfo di Diana Salis Ventimiglia 3 a 0 Olio Colto Taggia NLP blu 3 a 0 NLP rossa NLP verde 3 a 0 Classifica Olio Colto 9 Nuova Lega Pallavolo rossa Ediano 6 Under 18 Maschile Nella terza giornata Il Tremoviter Sanremo Perde per 3 a 1 In casa del Volley Team finale Under 17 Maschile Nella prima giornata Il Golfo di Diana Alassio Conquista i primi tre punti Superando per 3 a 0 Rosticeria Agazzera Sanremo Passiamo i campionati regionali C femminile Sesta giornata Tattoo Planet Sanremo Sconfitto per 3 a 0 Dal Sertecco Genova Salis Ventimiglia Perde per 3 a 1 In casa del Tiguglio Team E mercoledì Scorso 28 Si è giocato L'anticipo Della settima giornata Salis Ventimiglia Vittorioso Per 3 a 0 Nel derby Con Tattoo Planet Sanremo In classifica Ora entrambe le squadre Al sesto posto Con 8 punti C Maschile Quinta giornata Cariparma Imperia Nuova Albissola 3 a 0 Spedia Volley Grafica Amadeo 3 a 0 In classifica Cariparma Secondo Con 9 punti Grafiche Terzultime Con 2 Di Maschile Quarta giornata Pizzeria Mediterraneo Sanremo Perde per 3 a 1 Rapallo E resta Ferma 0 punti In classifica Sempre sulle immagini Nuova Lega Pallavolo Rossa E Maurina Vi do i principali appuntamenti Del weekend Domani Per l'Under 18 Maschile Al Palaitis Alle 16 Derby tra Cariparma E Tremoviter Sanremo Per l'Under 16 Femminile Palacanepa 18 Golfo di Diana NLP Blu A Ormon Alle 18 NLP Verde Maurina Per la C Maschile Sempre Ormon Alle 21 Grafiche Amadeo Pallavolo Genova E per la D Femminile Ruffini Alle 21 Anfossitagia VBC Savona Domenica Per l'Under 17 Maschile Accitera Alle 11 Rosticeria Gazzera Nuova Albissola Per l'Under 18 Femminile Ruffini Taggia Ore 9 Anfossitagia NLP Rossa E alle 11 Argentina NLP Rosa Ormona Alle 11 Nuova Lega Pallavolo Verde Salis 20 Miglia E Ruffini Alle 11 Maurina Golfo Di Diana Per la C Maschile Al Paleitis Alle 18 Cariparmi Imperia Cus Genua Chiude La Domenica La Serie D Maschile Ormon Ore 19 30 La Pizzeria Mediterraneo Sanremo Ospita Il Vole Sarzana E siamo così Al sesto servizio E parliamo Di pallamano Dopo un incontro Dei Due Volti Il primo disastroso E ripresa giocata Con grande determinazione Il Ventimiglia Nella sesta giornata Del campionato Di pallavolo Cede al Pallaroia Di Ventimiglia Per 28 a 33 Al San Giorgio Molteno Vediamo il servizio Come sta andando? Sta andando Secondo le previsioni Stiamo lottando Per la salvezza Anche quest'anno Il campionato È molto difficile In quanto tutte le squadre Sono agguerite Noi un po' di settimane fa Abbiamo visto il nostro Scontro diretto Per la salvezza Siamo un po' più tranquilli Ma lei pensa che Nello sport Non bisogna mai Abbassare la guardia Ed oggi è una partita Importante Per poter Fare dei punti Dato che Le prossime due trasferte Sono molto proibitive Con le squadre Favorite del campionato Quindi noi Oggi cercheremo Assolutamente Di fare dei punti È una A2 Maschile Molto impegnativa Perché ci sono delle squadre Fuori dalla regione Addirittura Voi siete l'unica Sì noi siamo gli unici Liguri Nel campionato A2 In questo girone C'è un'altra squadra Ligure Che fa però Un altro girone Quello della Spezia Fanno il girone Toscano Emiliano Noi facciamo il girone Lombardo Piemontese Siamo l'unica Ligure Sì come lei ha detto E le squadre Di questo girone A detta di tutti Sono quelle più attrezzate In questa A2 Il vostro obiettivo Cos'è la permanenza In Serie A2? Il nostro obiettivo Come tutti gli anni È la permanenza In Serie A2 E la valorizzazione Di tutti i nostri giovani Noi abbiamo una squadra giovanissima Spesso è arricchita Da under 16 Under 18 Under 20 Che sono poi la maggioranza E quindi il nostro obiettivo Valorizzare questi ragazzi E provare a Mantere il nostro movimento Di un certo livello E con A2 Già l'anno scorso Qualche d'uno Si è messo in mostra L'anno scorso sì Si sono messi in mostra In diversi Abbiamo avuto Degli ottimi risultati Anche a livello giovanile Con un terzo posto Nazionale Con gli under 18 E questa Ci conforta Sul nostro lavoro Quest'anno purtroppo Uno di questi ragazzi Ha subito Un ennesimo incidente Era il nostro Giorgio Filiberto Che è stato anche nazionale E oggi purtroppo Abbiamo anche l'essenza Di Luca Franzutti L'altro ragazzo Che ha vestito La maglia delle nazionali In diversi stage Anche senza di loro Dobbiamo fare Dal nostro meglio Perché i presenti Sono sicuro Che faranno al massimo Il loro dovere Saranno all'altezza Della situazione Oggi c'è una dedica Particolare Sì, lei l'ha detto bene La dedica è particolare Perché oggi noi aderiamo All'iniziativa Della Zonta Zonta di 20 Miglia Un'associazione femminile Che si batte per i diritti Delle donne E noi tutto ciò Che riguarda certi valori Li condividiamo in pieno Quindi vogliamo aderire A questa iniziativa Indosseremo le loro magliette E quindi Dedicheremo a loro Questa nostra giornata Il vostro obiettivo È rimanere in questa serie Beh certo Per quest'anno Noi puntiamo a rimanere In questa serie Anche se I ragazzi Hanno possibilità Di fare di più E potrebbero anche Puntare molto più in alto Però sono inesperti Ancora E quindi Aspettiamo Oggi una partita Molto impegnativa Contro il Molteno Sì, sì Molto impegnativa Perché La squadra Insomma Arriva da tre vittorie Di seguito Hanno avuto una sconfitta Però sappiamo Che c'hanno Un allenatore Che è il papà di Balik Il croato Il giocatore croato E quindi Sarà Sarà dura Comunque voi Dopo aver iniziato Il campionato Alla palestra Di Bordighiera Oggi ritornate sul vostro campo E quindi vi farete Valere Sì, meno male Dopo tanto Ritorniamo in casa A giocare E speriamo Che ci dia la spinta Per vincere Avete preso nota Degli acquisti Da effettuare Hanno preso Hanno preso Benissimo I nostri amici sponsor Allora Adesso parliamo Di sport Non prettamente italici Parliamo di rugby Intanto diciamo Che l'Imperia È caduta A Baite Contro il Cogoleto In serie C E quindi insomma Comunque è una partita Molto ben giocata Molto ben giocata Coraggio contro la squadra Prima in classifica Quindi questa è la prima notizia Che diamo E adesso Parliamo sempre di palle ovali Però la schiacciamo ancora un po' Non più rugby Ma football americano Perché domani sera Pian di Poma Andrà in scena La Sanremo Football Night Un evento di beneficenza Del quale andremo a conoscere I volti E le storie Nel servizio Dunque L'associazione è nata Per solidarietà Via Ogni partita che facciamo Che si fa Sia qui Che a Savono Che sia È per scopo Cioè tutto l'incasso Per quello che noi Cerchiamo sempre Di spingere la gente A venire Il più possibile Perché tutto l'incasso Viene devoluto Chiaramente Ai vari enti benefici In particolar modo Questo qui Fa per i bambini Mi sembra Per la spina di bifida Eccetera Per cui Venite numerosi È una società sportiva Dilettantistica Che fa solo Partite per beneficenza Esattamente Solo per beneficenza Però Sono vecchie glorie Che hanno voglia Di mettersi ancora in gioco E andiamo avanti così Nonostante gli tagli E gli acciacchi Però ci divertiamo Via Quindi sabato Ci sarà del divertimento A Pian di Poma Sempre divertimento Perché nonostante Soprattutto è divertimento Per noi E per gli altri E per il pubblico Quindi il pubblico Può venire tranquillo E oltretutto Collabora A far beneficenza Per questo Esattamente Soprattutto Collabora A far beneficenza In assoluto Invece passiamo A un giocatore Farà parte della squadra Che entrerà in campo Contro il Cirieno Sì Faccio parte della squadra Giocherò Se non succederà Niente di particolare Come tutti gli altri Anziani Chi più chi meno Tutta gente Che ha giocato Negli anni Che si è rimessa Per divertimento E così approfittiamo Anche per fare Un po' di beneficenza Da dove vengono Gli altri giocatori Che parteciperanno A questa partita Di beneficenza Alcuni Da Sanremo Alcuni Qua dal Ponente Gente dal resto Da Liguria Dal Piemonte Da Napoli Da Trieste Da Milano Insomma Riduniamo un po' Di ex Glorie Tra virgolette Del football americano In Italia Da dove nasce Questo vostro impegno Al fianco del football americano Nasce a fianco del football americano Perché comunque Siamo tutti amanti Del mito americano Dell'Harley Davidson E quindi Per associazione mentale Associazione di idea culturale Chiaro che il football americano Si associa di più Al mito americano Motociclistico Che non Non so Una partita di calcio Una partita di tennis Quindi l'evento Al di là della valenza sportiva Ovviamente L'importante è raccogliere fondi L'importante è raccogliere fondi Sì Anche perché Le due squadre Una sono i blitz di Cirie Che è una squadra che gioca L'altra L'altra è una squadra Di ex giocatori Di football americano Che organizzano Queste partite amichevoli Proprio allo scopo Di raccogliere fondi Per le persone Che hanno bisogno di aiuto Che hanno delle gravi malattie E hanno bisogno di soldi L'anno scorso Era stato un grande successo Quindi l'obiettivo di quest'anno Qual è anche a livello di cifre Di numeri Ebbè Quello è quello sempre Di aumentare Il ricavato Perché comunque La ricerca Ha sempre bisogno Di nuovi fondi Non si trova ancora Una cura specifica Non si trovano ancora Le soluzioni E quindi più soldi ci sono Per cercare di aiutare Questa gente E più forse un domani Esisterà un modo Per evitare O diagnosticare Ancora prima della nascita Che uno ha questo problema Curarglielo E quindi fa una vita normale Visto il grande successo L'anno scorso Sarà sufficiente Il piano di poma Oppure per i prossimi eventi Servirà un impianto Più capiente Non mettiamo il carro Davanti ai buoni Intanto abbiamo Pianti poma Poi se Pianti poma Non basterà più Provederemo Sarà una serata Favolosa questa Uomini di sostanza Non solo Sportiva Ma anche morale Certo Certo Poi è spettacolo È grande spettacolo E qua da queste parti Si vede una volta o due All'anno È una rarità È una rarità Quindi noi ci saremo Con le nostre telecamere E proporremo poi il servizio Come sempre Siamo onnipresenti Allora passiamo al ciclismo E prima di far vedere un servizio Parliamo di un comunicato Che ci è arrivato Dall'Associazione Centri Sportivi Italiani Il settore ciclismo Comitato Provinciale D'Imperia Il presidente provinciale Del settore ciclismo Imperia Ricorda che sono aperte Le iscrizioni E le affiliazioni Per la stagione 2013 Le tessere I documenti Per gli addempimenti Sono stati consegnati Ai vari presidenti Delle associazioni sportive Delle tantistiche Dove non fosse stato possibile La consegna Si prega di voler contattare La segreteria del comitato Che si farà carico Dalla consegna stessa Bene Comunicato abbiamo letto E ora passiamo Si è svolta la festa Di fine anno Dalla ciclistica bordighiera Olmo Coapi In questa seconda puntata Andiamo a conoscere Gli amatori Professionisti E le donne Che fanno parte Di questa società Io sono Moreale Giacomo Faccio parte Dalla ciclistica bordighiera Nella categoria Gentleman Quest'anno ho vinto A Trinità Il trofeo di Pasquetta Sempre nei Gentleman Aiutato dall'amico Gaggero Che ai due chilometri Mi ha aiutato In volata E ho vinto appunto In volata E un'altra gara Che ho vinto A Caramagna Sempre in volata Così E poi ho fatto Altri piazzamenti Comunque devo dire Che le gare Sono sempre dure Veloci E l'impegno Deve essere sempre costante Moreale Gioele Questa stagione qua Tutto sommato È andata bene Anche perché La prima gara Ha portato Un buon risultato Ovvero Il campione regionale Poi si sono Susseguite altre Vittorie Tra cui Due vittorie assolute E sono riuscito A vincere Anche il Memorial Mamma Papalanzo Che è la La gara Organizzata Dalla mia società Ovvero Ciclistica Portighiera Lanzo Giuseppe Tu Che gare hai vinto? Quest'anno Ho vinto L'ultima corsa A Montenero Nella fascia giovani Da prossimo anno Sono vecchio Anch'io E ho vinto Bravo Da c'è La cassa efficace Tutto l'anno Comunque È una stagione Positiva Sì Sì Altri passamenti Nei primi cinque Tutto l'anno Gaggiori Ivano Ciclistica Bordighera Sono un gentleman Quest'anno Diciamo È andata bene La cronometro Che abbiamo vinto Il regionale A coppie E poi Per il resto Dell'anno Ci siamo prestati A qualche Compagno E abbiamo Ottenuto Dei buoni Posti Nei primi Tre assoluti Quattro E così via Buoni piazzamenti Buoni piazzamenti Esatto Gianluca Panizzi In che categoria Tu corri? Nei veterani Della ciclistica Bordighera Hai ottenuto Dei risultati Di rilievo? Sì Quest'anno Ho vinto Il campionato regionale A Savona E poi Il giro di Savona Che era Nella stessa gara Era valevole Per il campionato Regionale E per la seconda serie Degli veterani Tu vai meglio in salita O in pianura? Io vado meglio in pianura Però Nelle salite corte Mi difendo Diciamo Luca Barla Tu corri per chi? Quest'anno Ho corso per il team idea Conad Che era il primo anno Di questa società Nei professionisti Solo che Il prossimo anno Non ci sarà più Quindi Vedremo Cosa faremo Aspetti un ingaggio? Sì Sto vedendo un po' in giro Trovare Vediamo In che squadra Andare Un attimino Il prossimo anno Diciamo che anche nel ciclismo La crisi si fa sentire Però dai Speriamo bene Tu sei cresciuto Nella ciclistica arma E adesso ritrovi Tutti i tuoi compagni Qua in questa serata Eh beh sì Io sono cresciuto Nella ciclistica Però alla fine qua La provincia è piccola Quindi ci conosciamo Tutti quanti E' sempre bello Ritrovarsi qua Ogni anno tutti assieme Poi la ciclistica Bordighera Penso che sia La società che Con i ragazzini più piccoli Sia sempre la più numerosa Quindi E' un bene per la provincia Che ci sia questa società Cristiano Salerno Tu corri per che squadra? Per la Liquigas La Liquigas E i tuoi migliori risultati Che hai ottenuto? Ma Quest'anno Niente Perché ho sempre fatto Il gregario Nelle corse Al Giro d'Italia La Vuelta Ho vinto L'ultima gara Il Giro del Giappone Nel 2010 I tuoi propositi Per la prossima stagione? Ma L'anno prossimo Starò sempre nel mio ruolo Comunque Per aiutare i capitani E Sperando avere qualche Colpo di fortuna Mi chiamo Olivero Troia Tu hai partecipato Ai recenti mondiali O no? Ho partecipato Ai mondiali E gli europei Come è andata? Gli europei Ho fatto sesto E i mondiali 22 esero Comunque è stata Una bella esperienza Sì Bellissima Un'esperienza Che mi ha fatto Crescere E sono molto felice Di questa esperienza Che ho fatto Io mi chiamo Massimiliano Vigo Coro per la Vilis Maserati Ander 23 I tuoi migliori risultati Che hai ottenuto In questa stagione? Questa stagione Un ventiquattresimo Una gara regionale In Lombardia E poi Partecipazione In gare nazionali Internazionali Con la squadra E niente altro Questa sera È una serata Di divertimento Quindi non fatichi Sì È una serata Di ritrovo Con vecchi amici Perché anch'io In passato Ho corso Con la ciclistica Bordighera Guidato da Guerrino Lanzo Che anch'io stimo molto E ho corso Con lui Esoridiente Primo e secondo anno Dove ho colto Molti risultati Un campionato provinciale E anche Ho vinto una gara Importante in Piemonte Io sono Federico Borella Corro per la Monviso Venezia Di Bra Una squadra Di dilettanti Diretta dal senatore Michelino Davico E il direttore sportivo Domenico Cavallo E niente Sono contento Di essere stato invitato Alla cena del Bordighera In quanto ho iniziato A correre appunto Per le file di questa società Ed è sempre un onore Rincontrarli ogni anno Alla cena di fine stagione E nulla Quest'anno Ho corso Un'ottima stagione Da protagonista Con Meglio risultato Un quarto posto Alla gara di Robescala Per Elite Under 23 Nazionale E un buon campionato italiano E un'ottima prova Nelle prime tappe Del Giro Bio D'Italia Sono Diana Vigo E gareggio per quest'anno Nel Team Valker Nella categoria Junior Secondo anno Spero di fare Molto di più Di quest'anno Dato che ho avuto Un brutto incidente E dopo Tutte queste gare Che hai fatto I risultati Sono arrivati Solo all'ultimo Dato che sono stata ferma Per la caduta Che avevo E boh Soprattutto nella crono Del resto Niente I Laga Sanguinetti Quest'anno passerò Nella categoria Elite Quest'anno Ho ottenuto tre vittorie Su strada Ho vinto il campionato italiano Su pista Nel terzetto E ho partecipato Agli europei e mondiali Come titolare Spero che quest'anno Nella categoria maggiore Andrà bene Sarà una bella esperienza Siete il meglio Della ciclistica portichera Della ciclistica portichera Mi ha fatta crescere Io con guerra Ci ho passato Sata una casa Ho passato sette anni Nella mia vita Sono cresciuta con lui Come un secondo papà Per me E devo tutto a lui Brave complimenti Eglia Caruso Ho corso Fino a Juniors Primo anno E fino al secondo anno Di allieva Sono stata nella ciclistica bordiera Che per me è stata Una famiglia Diciamo più che una squadra Adesso per il prossimo anno Cosa ti aspetti? No io ho smesso di correre Mi sto dedicando agli studi Perfetto Complimenti Eugienia Caruso Io ho corso fino all'anno scorso Con una squadra di asti Fino a due anni fa Con la ciclistica Bordighiera Che è stata per me Una famiglia Veramente molto unita Mi sono trovata molto molto bene E adesso E adesso Continuo nel ciclismo amatoriale Perché comunque Con i tempi E con la scuola Non riesco a continuare Non riesco a continuare nell'elite Quindi mi dedico al ciclismo amatoriale Ma comunque continuo sempre nel ciclismo L'importante è andare in bicicletta Certo Certo Grazie Ciao Io sono Giorgia Darandini E quest'anno Hai visto Ti piace il ciclismo o no? Una bella squadra Una bella squadra Abbiamo già visto Nella puntata precedente La ciclistica Bordighiera Olmo Cappi È veramente una grande squadra Poi c'è Guerino Lanzo Che gli fa crescersi ragazzi Assolutamente E adesso come facciamo? Dobbiamo Sì però io non lo vedo Collegarci con Cosa? Mandagli un'email Un fax Una pec Un whatsapp O poi hai l'iPad Lì cos'è? L'iPad qua Non hai l'iPad Non si sente bene No l'iPad si è rotto purtroppo E allora come fai per Me l'ha rotto Andrea Mandare la lista Ah io c'ho un'idea Dimmi Secondo me Ci arriva molto Achille Penelatore Allora qua abbiamo Tutti gli eventi del fine settimana Achille a te Gerson Questa sarebbe la tecnologia Questo sarebbe il modo Di mandare i messaggi Eccedente Su Tutte le volte Guarda lì Come faccio a leggere adesso qua Io mi spiego Ecco Tutti gli accenti Storpiati Oh mamma mia Adesso qui c'è una scopo benefico E qui non c'è chitto benefico C'è l'accento sbagliato E benefico Eh no Occidenti Pensa un po' Se fosse stata partita benefica Cosa veniva fuori Meglio non citarlo Comunque Buonasera a tutti amici di SportiV Gerson e Paolo Mi hanno invitato Guardate qua In che stato A leggere Diciamo l'indice Tutte le manifestazioni sportive Tra sabato e domenica Madonna Quante ce ne sono accidenti Comunque Cominciamo Perché sennò qui Andiamo fuori tempo Sabato e domenica Autunno in regata Accidente Inverno in regata sarebbe Ventinovesimo campionato invernale West Liguria Freddo E domenica Anche nuvoloso Con po' di vento Di tramontana In qualche momento Sostenuto E mare mosso Sabato sera A Pian di Poma Football Americano A scopo benefico Il tuo amico Modena Ha un altro accento sbagliato Modena Massimo Modena Ciao Vuole sapere Se piove No io credo di no Anche per te Massimo E tutti i tuoi colleghi Sportivi Freddo E tramontana Quindi copritevi Ma tanto voi Sportivi Su quel campo E poi belli come siete Robusti Non dovreste sentire freddo E poi usciamo fuori Un po' dei confini Della nostra Sanremo Andiamo sabato sera Alle 20.45 A Torino Juve Torino Per il derby Con un cielo poco nuvoloso Va meglio lassù che qua Però ci sarà nebbia Attenzione Andare su E poi sempre sabato Torniamo qua In queste zone Liguria Calcio Nove denti Coldirodi Beh Inutile parlare del cielo Come sarà Se sarà nuvoloso o meno Allora interessa Sapere se piove Non pioverà E farà freddo E quindi Gli amici Non vedenti Bateranno poi i denti Domenica Alle 15 Motocross Arma E alle ore No Anzi alle ore 9 Arma Qui avete fatto un bel casino Domenica Arma Quindi con un cielo poco Nuvoloso Nuvoloso a tratti Nuvoloso Anche per voi Un po' di vento Poi a Genova Amarassi Genova Chievo Con un cielo Nuvoloso Tramontana A Genova Sarà molto più Sostenuta E sentirete Ancora più freddo Poi a Milano Inter Palermo Sempre di pomeriggio Con un cielo Poco nuvoloso Un po' di nebbia Poi a Firenze Fiorentina Sandoria E la Sandoria Sarà penso L'unica squadra Che domenica Giocherà ancora Con una precipitazione Perché a Firenze C'è la perturbazione Che si allontana È una città Molto più a est Delle altre Quindi potrebbe Ancora piovere un po' E fare freddo In ultimo Mi chiedete Della situazione Dal neve Solo una parola Una parola Buona Quindi divertitevi Con gli sport ivernali Buonasera a tutti E io te lo rilancio Te Cosa ti ha mandato? Non posso giocare a football Niente Cosa ti ha mandato? Neanche a calcio Come portiere Insomma Ci ha dato delle buone informazioni Bravo Achille Grazie Adesso poi ci leggiamo Con calma Va bene Perché quello che non hai detto In diretta Siamo quasi Al termine della tradizione Prima della telecronaca Della partita Argentina Ventimiglia Cosa facciamo? I pronostici? Ma io direi di fare un po' di pronostici Facciamo i pronostici Facciamo via email Via tech Oppure via Whatsapp Whatsapp O Ipad Non so io Whatsapp Non so Whatsapp Whatsapp è l'applicazione preferita Ai contadini Lo sai? Sì Va bene Con la zappa Sapeste come l'ha scritto Andrea V-U-O-Z-A-P A-P Va bene Allora dai Whatsapp Facciamo le cose seriamente Passiamo ai pronostici Paolo E' già due turni consecutivi Che ti straccio Quindi Sei atteso a un riscatto difficile Lo so Lo capisco Però insomma Partiamo con Catania-Milan Per esempio Catania-Milan 0 a 2 0 a 2 Paolo Io dico 1 a 1 Perché Catania In casa è insidioso Non cambia formazione Praticamente da due anni E quindi gode ancora Delle eredità di Montella Fiorentina-Sampdoria A proposito di Montella Fiorentina-Sampdoria Vince la Fiorentina 1 a 0 Fiorentino-Sampdoria Vince La Fiorentina Sarà contento Dume Il nostro operatore E io invece dico Che Fiorentina-Sampdoria È la classica partita Da 0 a 0 0 a 0 Va bene Poi Da una genovese all'altra Genoa-Chievo Genoa-Chievo Genoa Quanto? 2 a 1 Va bene 2 a 0 2 a 0 Va bene Troppo in forma Poi Siena-Roma Siena-Roma Vince la Roma Mettici 2 a 0 2 a 0 Per la Roma Io ti dico 1 a 0 Per la Roma E passiamo Al derby Della Mole Juve-Torino Che potrebbe regalarti Delle grandi soddisfazioni Paolo Vince la Juve Come vince la Juve? Vince la Juve Mi sono convinto Ma cosa ti sta succedendo In queste settimane? Vince la Juve Quanto? 2 a 0 2 a 0 Chi segna? 2 a 0 Segna Vucini E si gioca Il piccolino Giovinco Giovinco Benissimo E invece ti dico Che il Torino Gli fa lo scherzetto Alla Juve Gli fa lo scherzetto Nonostante Questa testa Non ci credo Non ci credo Non ci credo io Vabbè Eh lo vediamo la prossima settimana Io comunque te lo preannuncio già Finirà comunque 1 a 1 1 a 1 Va bene Mentre l'ultima sfida E quella che ti riguarda più da vicino Inter Palermo Contro il tuo amato ex Gasperini 0 a 1 No Attenzione 0 a 1 Per il Palermo Regia Ma sta bene Paolo Quest'oggi L'Inter che ho visto Nelle ultime settimane Non mi è piaciuta per niente Quindi ti dico 0 a 1 E qua mi sa tanto di Controgufata E io penso che Inter Palermo Sia partita Che vedrà il riscatto Dei nero-azzurri Sì Alza le mani Paolo Sulla scrivania Grazie 2 a 1 Per l'Inter 2 a 1 Che soffrirà Però insomma Alla fine Non ci credo Non ci credo Non ci credo Qual era la partita Che sta andando in onda Proprio adesso Mentre ci siamo qua Noi in studio Cattania Mila Ecco noi non sappiamo Assolutamente Non sappiamo niente Dovrebbe essere finito Il primo tempo Quindi Questo possiamo dirlo Ma siamo isolati Qui siamo isolati Così come isolato È il cavo Dove verrà custodito Il nostro tabellone Dei pronostici Lo vedete bene Ecco qua Qui abbiamo Tutti i nostri pronostici Come al solito Vi invitiamo a fare Che cosa Paolo Due cose Uno A mettere mi piace Alla nostra pagina Facebook Non lo ricordiamo mai Ma siamo anche su Facebook Sport TV È la pagina ufficiale Quindi Volete essere aggiornati Volete rivederci In replica Volete Fare le vostre considerazioni Mandarci un messaggio Invitarci a un evento Fatelo lì Certo Però c'è anche L'indirizzo e-mail Sport TV Chiocciola TG Riviera dei Fiori Punto it Punto it Questi sono i nostri recapiti ufficiali Non mandateci il piccione viaggiatore Non lanciateci le palline Come Achille Perché Non rispondiamo Comunque è un fine settimana Molto Intenso Intenso Per te Quindi Iniziamo da sabato Cosa c'è sabato In che senso Di manifestazioni Di manifestazioni Ok va bene Il football americano Il football americano Alla sera Abbiamo il calcio non vedenti Prima il calcio non vedenti Alle 14 Alle 10 e 30 Domani mattina Sì 10 e 30 Poi abbiamo A Coldirodi Nel campito a Coldirodi Sì 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 10 e mezza Poi abbiamo Il mattino Sia di sabato Che di domenica Quindi domani Dopodomani La vela Ancora il secondo Appuntamento di autunno In regata E poi domenica mattina Ancora Lo facciamo anche vedere A favore di telecamera Il manifesto Dell'evento Come vedete Settimo raduno Nazionale Lo vedete Motorregolarità Di piccola cilindrata Questo è il programma Mi raccomando Siate numerosi Anche a questo evento La novità di quest'anno È che poi si svolgerà La gara sulla spiaggia Sulla spiaggia di Arma Sì Bello Bello Partano dal Costa Ligure Lì dove c'è lo stabilimento Costa Ligure In zona Peirane E poi vanno sul mare Sulla spiaggia Quindi sarà uno spettacolo Da vedere Benissimo Noi abbiamo terminato Ora vi lasciamo Alla telecronaca Anche che c'è Un piccolo Cos'è? Problema tecnico Un problema tecnico Un problema tecnico Stiamo studiando Stiamo studiando Stiamo studiando Delle soluzioni tecniche All'avanguardia Ci sta ogni tanto Di poter incappare In qualche problemino Comunque i gol li vedrete tutti Quindi una bella partita Tre Non sentite Gerso Non sentite Gerso Non sentite il Mattia Rossi Il commento Mattia Rossi Però Insomma questo Tutto a vantaggio Dei nostri ascoltatori Ci dovete scusare Per questa settimana È andata così Problema tecnico L'importante È vedere lo spettacolo In campo Ed è stata una bellissima partita Almeno per 80 minuti Quindi Insomma Noi raccomandiamo Di vederla Ciao Gerso Buonasera a tutti Buonasera Mi raccomando Rimanete lì Ci vediamo Domani E dopo domani Sui campi E poi venerdì E poi prossimo venerdì Ciao Gerso Buon fine settimana Anche a te Paolo A voi Ciao Gerso Ciao Gerso